Un pericoloso latitante albanese già noto alle forze dell'ordine senza fissa dimora è stato catturato ieri in una brillante operazione congiunta delle forze di polizia. Uomini del commissariato e carabinieri della compagnia di Fano dopo un roccambolesco inseguimento costato anche un infortunio al poliziotto che gli si è avventato addosso per bloccarlo hanno assicurato alla legge Emilian Bici 39 anni sul quale pendeva un mandato d'arresto emesso dalla procura di Ravenna per un accoltellamento commesso fuori da un locale pubblico nella città romagnola assieme ad altri due complici un uomo e una donna catturati però nello scorso 27 febbraio a Calcinelli dopo che i carabinieri di Ravenna avevano comunicato la presenza della banda sul territorio fanese mentre lui era riuscito a sfuggire alla cattura. Il latitante è stato visto nella mattinata di ieri nei pressi di via Mameli a girarsi vicino all'abitazione di un apparente che gli investigatori stavano tenendo d'occhio proprio per cercare di intercettarlo e così è stato cosa non facile dato che l'uomo per non essere rintracciato non usava assolutamente telefoni cellulari ma comunicava attraverso i telefoni pubblici. Un personaggio particolare appunto che non usava aveva dei bigliettini al posto della rubrica telefonica e in pratica quindi gli è stato contestato oltre il fermo per quanto riguarda l'attività imbastita dalla procura della Repubblica di Ravenna anche la ricettazione e il reato di vieto di reingresso ai sensi del decreto legislativo 286 del 98. L'albanese non sospettava che le forze dell'ordine fossero ad aspettarlo al barco e così ha inforcato una panda rubata la sera prima a Calcinelli e si è diretto verso l'interno seguito da un'auto civetta della polizia che quando sono stati nei presi di San Michele al fiume vista la zona sicura per l'incolumità pubblica ha fatto scattare la trappola. Annulla e valso il tentativo del 39enne di sfuggire per la seconda volta all'arresto braccato e placcato è stato ammanettato dopo una colluttazione con i poliziotti. Oltre al mandato d'arresto Ravennate gli sono stati contestati anche i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, ricettazione per il furto dell'auto ed il reato di violazione del divieto di reingresso sul suolo italiano dato che Bici è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. Già nel 2005 era stato arrestato per i furti commessi in appartamento con la tecnica del buco e rimpatriato in Albania. Ora il terzetto si è riunito sotto il tetto le carceri di Villa Fastigi dove gli altri due erano stati portati la sera del 27 scorso a disposizione naturalmente tutti e tre dell'autorità giudiziaria.